Alle richieste di accelerazione del liter di consegna dei 56 alloggi popolari di Contrada Piana dei Peri a Fevara, replica l'assessore comunale alle politiche sociali Carmen Virone. Quest'ultima, in nota, precisa che i passaggi burocratici relativi alla definizione della graduatoria sono stati chiusi e gli incarti sono stati trasferiti all'Istituto Autonomo Case Popolari. Secondo quanto dichiarato dall'assessore Virone, i ritardi sarebbero dovuti a problemi di competenze dell'Ufficio Tecnico Comunale, In particolare, Virone si riferisce all'obbligazione della cabina elettrica a servizio degli alloggi. Inizialmente, infatti, era prevista come comune ai 56 alloggi, mentre deve essere corta esclusiva e di proprietà del comune di Fevara. In riferimento al completamento di tale procedura, dichiara l'assessore Virone, abbiamo avuto un confronto con l'assessore a ramo Enzo Biancucci, che ci ha assicurato che oramai è solo un problema di passaggio degli atti che l'Ufficio Tecnico deve trasmettere allo IACP, addempimento che assicura l'assessore entro fine settimana sarà completato.